Siamo su questo sito di questo nuovo video, la prima vi ringrazio per 50 iscritti, grazie mille stanno costringendo gli spettrali, non è che non me l'ho aspettato però sono molto felice per questo piccolo traguardo. Comunque vi ringrazio, ma questo è un serbato speciale, in questo sito si chiama il sketch, ho praticamente cos'identico, però ti fa vedere i tuoi prossimi 30 bauli, tra cui il super magico leggendario ovviamente. Super magico e leggendario però, non lo so, quando ci sarà un nuovo gioco della Supercell. Cioè, il super magico tra 433 e leggendario 490, però l'epico tra 3 bauli, quindi, meno male. Tra l'altro è molto bello, tra l'altro è molto bello, cioè, si fa vedere sulle vittorie, tutto, possiamo vedere anche diversi deck fatti da diverse persone qua. Ci fa vedere anche il proprio deck fatti da quattro. Poi fai vedere il clan che a me non va, il Dekang, posso mezzate, e tra l'altro si può cambiare sfasciando la rotellina in alto a destra sull'impostazione, eh beh carino. Voglio fare il secondo account, vabbè bisogna scrivere l'username, bisogna aspettare, c'è un aspetta lei, io spero è, no, c'è qualcosa che, oh ecco, tra l'altro non è quello che porto, o quell'altro che porto, tra l'altro, c'è anche tra 70, 76 paure super magico, buono, 522 leggende allucine, dicono che è di Goebb, oh, però tra 23, gigante, sta gigante, quindi, questo brain sound deve speciare tutti i scalitti, termina qua, è un po' corso, lo so, però praticamente è un bel sito, dico, è un sito molto, ma molto bello, molto, e poi voglio fare anche vedere i top player, che a me non funzionano niente, troppo un solo dettaglio. Beh, però ho cambiato Crown, perché è andato a, a mal fine, gli spettrali, ora sono tutto hack, praticamente ora il bowl dei Crown ce l'hanno 9 su 10, quasi livello 10, 7 su 50 per farlo livello 10, non ci riguardiamo mai livello 10, spero, quindi questo breve, questo breve video finisce, e ciao!